Nei presi di Istok cittadina in Mentokia, ai bordi di una pianura fertile su una collina chiamata Bellicamen, si trova il monastero Goryoch. Già da lontano attira l'attenzione per i suoi tetti che spuntano tra i pini. Impazienti di arrivare a questo santuario, prendiamo una stretta strada d'asfalto che va a nord-ovest da Istok. Da ambedo i lati della strada ci accarrezza l'ombra del bosco che porta ad una collina dalla quale si vede la metà della regione Mentokia e lì in cima si trova il santuario che continua a sfidare il tempo e le persone. Il complesso monasteriale non è grande, nel centro si trova la chiesa di San Nicola e ai lati gli alloggi e il campanile. Entrando nel cortile del santuario si ha subito una sensazione di sollievo, come se fossero svaniti tutti i pensieri e sentimenti negativi e il corpo viene conquistato dalla pace e dalla tranquillità. Il verde e i fiori di tutti i colori completano la sensazione e danno un tocco magico a questo luogo. Incantati dalla bellezza di Gorjoc e dai suoi dintorni, gli studenti e i turisti adorano trascorrere la giornata sulle panchine sotto gli alberi nel cortile del monastero. Secondo una credenza popolare, il monastero Gorjoc fu costruito dall'arè Stefan Dejanski in segno di gratitudine per la guarigione della sua vista. La vecchia chiesa di San Nicola risalente a Trecento fu distrutta, ma sulle sue fondamenta ne fu costruita una nuova nel Cinquecento, ricostruita poi nel Novecento, che conserva tutt'oggi undici icone antiche. Nel monastero si trovava una biblioteca medioevale con i manoscritti di inestimabile valore e alcuni di questi libri oggi si trovano nella biblioteca di San Pietroburgo. Gorjoc fu chiuso durante la Seconda Guerra Mondiale e lì gli albanesi torturarono i serbi catturati. Nel 1999 Gorjoc subì il destino di tanti altri santuari serbi in Kosovo e Metocchia. Dopo il ritiro delle forze armate jugoslave nella provincia meridionale serba, i vicini di casa albanesi lo distrussero. Le monache di Gorjoc non vogliono parlare di quei tempi, cercando di dimenticare l'orrore. Con l'ingaggio e la buona volontà dei serbi, non soltanto di Kosovo e Metocchia, ma dell'intera regione, il monastero è stato ricostruito e oggi si sentono le campane, si serve la liturgia e la gente ci viene da tutte le parti per ammirare le sue bellezze. Grazie